ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video ora vi spiego cosa sta succedendo ma molti di voi l'hanno già capito della miniatura scusate come primissima cosa per l'eco che sentite ma sono tutte stanze vuote e prima di spiegarmi che cosa sta succedendo due cose fondamentali come sempre iscrivetevi al canale e lasciate un bel like sotto questo video ora come molti di voi hanno capito da instagram ho comprato ufficialmente casa sì sono molto contento qui dietro c'è sarà che riprende tutto e quello che voglio registrare oggi con voi è la mia casa ancora vuota ma vi faccio fare un piccolo tour e poi se volete se schiacciate il pulsante dei like beh vi porterò altri video come questi magari con l'evoluzione con i lavori che faremo quella che vedete qui davanti sarà la stanza soggiorno e cucina io non riesco a immaginare assolutamente nulla ma sono veramente tanto fortunato perché c'è sarà che invece immagina il futuro per mai invece è solamente una stanza vuota ma sono sicuro che riusciremo a valorizzarla nel modo giusto e a dare il giusto spessore quindi qui ci sarà il salotto non dovrà ancora capire come mentre lì qua ci sarà la cucina e dopo settimane settimane a capire dove mettere il frigo se l'abbiamo fatta ma a parte le battute venite con me qui abbiamo una bellissima porta scorrevole ultimo grido sul mio piede e questa sarà la camera letto che mi piace un sacco con le finestre che daranno sul giardino che poi magari dopo vedremo chi lo sa anche qua tutto sfoglio anche qua c'è un grande eco ma è evidente è una casa vuota però penso che verrà qui il letto giusto regista direi di sì ok e dietro di voi l'armadio qui invece abbiamo il bagno ragazzuoli dove forse ancora da decidere rimuoveremo la vasca per mettere la doccia perché io odio la vasca del bagno e faccio parte del team che preferisce ampiamente la doccia quindi molto probabilmente sta roba sparirà faremo una magia alla david copperfield e la faremo sparire ok ma come vedete mancano tutte le luci quindi stiamo proprio in uno stato bravo devo ancora attivare l'enel andiamo di qua e questo è dove la magia avverrà ragazzi perché diventerà il mio studio quindi sarà la base per i prossimi contenuti che porterò sul canale e quindi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi perché stiamo crescendo forza dai e qui c'è anche molto meno ecco come vedete è un po buia ma perché di fatto stiamo sfruttando la luce naturale ed è anche una giornata un po non volosa anni avanti qui abbiamo uno scoperto ancora da identificare e qui abbiamo la lavanderia che sembra abbastanza identica in realtà è molto comoda ovvio raga che adesso dovete fare il lavoro che faccio io ovvero immaginarvela piena di cose altrimenti è ovvio che saranno solo stante vuote mentre andando di qua abbiamo tutto lo scoperto ovvero ragazzi la casa di desi perché forse voi non lo sapete ma desi ha la casa molto più grande della mia vanta 225 metri quadrati di scoperto eccola qui una cosa che mi piace tantissimo di questa casa che avete visto è che tutte le stanze collegano sul giardino secondo me ha un valore aggiunto incredibile ora ragazzi come l'avete vista ovviamente vuota adesso io e sarà soprattutto sarà che ha questo talento si concentrerà sull'arredarla e quindi poi se volete due cose dovete fare iscrivervi al canale lasciare un bel like porteremo altri video come questi magari anche con il work in progress siccome ragazzi molti di voi che mi seguono sono liberi professionisti imprenditori a una partita IVA e magari siete curiosi di come ho fatto a comprare casa essendo io un imprenditore lasciatemi un commentino qui sotto e magari posso registrare dei video doc su quella che è stata la mia esperienza sapete che a me piace condividere tutto quanto con voi quindi lo chiedo direttamente a voi fatemelo sapere inutile dire che sono veramente felice del traguardo raggiunto raga ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao